Claudio Amendola ha deciso di aprire il suo cuore e raccontare un capitolo intenso della sua vita, quello tra gli undici e i trentadue anni, in un libro intitolato Ma non dovevate andare a Londra. Da giovane, il destino lo portò in un'avventura tanto insolita quanto affascinante, grazie alla sua amata madre, Rita Savagnone. Invece di realizzare il sogno di una fuga a Londra, Claudio e suo fratello Federico si ritrovarono su una FIA 128, intraprendendo un viaggio attraverso l'ex Jugoslavia, Romania e Bulgaria. Una ricerca di un paradiso perduto, mentre la madre sperava di scoprire un'importante utopia di uguaglianza. A 60 anni, Claudio riflette su una politica che osserva con nostalgia e disincanto, amandola ma sentendosi lontano da essa. Dedica il suo libro alla madre, una militante fervente del PC, convinta che un giorno il cirillico sarebbe stato la lingua della comunicazione globale. Ma ciò in cui credeva cominciò a sgretolarsi davanti alla realtà che, in quel viaggio, si manifestò con tristezza e vuoto. Un racconto toccante che ricorda la forza degli ideali e la fragilità dei sogni.